In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra a terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si ha detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato, e i figli che ho allevato hanno pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà, ormai son sottoterra, e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia, qualcuno mi ha rubato, mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò, e chiuderò la porta sulla stagione morta, e mi incamminnerò. Vivrò di carità, sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna, e a tutti griderò di non partire più, e di non obbedire, per andare a morire, per non importa chi. Per cui se servirà, del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro, se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho.